...2 è Simone ed è Kirito da Sword Art Online. Ho sempre pensato che se un solo player era la cosa migliore. Che non creare legami mi avrebbe permesso di superare ogni stanza. Questo è ciò che ho sempre pensato. Ma oggi, oggi ho cambiato modo di pensare. Oggi ho scoperto che nella sua presenza, nel suo modo di fare, lei sarebbe stata la mia nuova carica. E che per niente al mondo avrei permesso che le venga fatta del male, perché io la difenderò, a costo della mia stessa vita. Ecco lei al mio fianco, che uscirò nell'impossibile. Facciamo un applauso. Adesso, vorrei che non voglio sapere.